E chi ti ha insegnato a parlare con così grande classe? Credo l'esercizio di parlare anche con i muri, nel senso che sono una che la metti davanti a un lampione e ci chiacchiera. E cosa dici al lampione? Cosa dici al lampione? Ma come sei magro! Come sei magro? Ma quanta luce ci dai! No, 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 no. Io ho ascoltato molto, ho ascoltato molto, ho avuto la fortuna di conoscere persone che parlavano di cose che amavano. Quindi io non so se parlo un italiano piacevole, se parlo… Molto bello, molto forbito. Ma è molto bello ascoltare le persone che parlano di cose di cui sono appassionate. E anche sentire parlare le persone di cose che vorrebbero conoscere. Quindi l'ascolto degli altri nella mia vita mi ha solo arricchita. Mi ha solo arricchita.